È uno dei leader più controversi del nostro tempo, c'è chi lo definisce un pazzoide che persegue sogni di gloria e chi ne fa un eroe dell'antimperialismo. Certo è che con la sua rivoluzione bolivariana, Ugo Chavez, il presidente del Venezuela, ha imposto una visione personalissima di socialismo democratico, attaccando la globalizzazione neoliberista e la politica estera statunitense. Raccontare tutto ciò che c'è dietro a questo personaggio non è facile, soprattutto quando sei un reporter giovane e quando, armato di telecamera e microfono, ha a che fare con gente armata sul serio, con tanto di fucili e mitra. Luca Bellino e la sanbenedettese Silvia Luzzi però ci sono riusciti con il loro documentario La Minaccia. Presentato al Festival Libero Bizzarri di San Benedetto, La Minaccia è lo strumento giusto per capire se il Venezuela sia di fronte ad una nuova società socialista o all'enesimo caso di populismo e dittatura. Com'è nata l'idea della minaccia e soprattutto di questo viaggio in Venezuela? L'acconto volentieri perché è nata sul lungomare di Porto d'Ascoli, quindi qui vicino, una mattina di giugno dell'anno scorso e la curiosità di andare a verificare cosa fosse questa rivoluzione bolivariana ci ha fatto decidere di mettere insieme le nostre forze e siamo partiti di lì a un mese, organizzandoci pochissimo e decidendo di rimanere molto tempo senza girare e accumulare idee e materiale per poi iniziare le riprese dopo un po'. Ospitato dai più importanti festival di documentari italiani ed esteri, La Minaccia ha ricevuto anche una nomination ai David di Donatello. Una grande soddisfazione per un progetto che è nato fra tante difficoltà e peripezie per poter incontrare il Presidente. A mezzanotte del giorno prima ci hanno avvisato, ci hanno detto che saremmo partiti alle 5 del mattino per una destinazione sconosciuta, siamo stati prelevati da una macchina militare che ci ha portato in un aeroporto militare, ci hanno fatto salire sull'aereo presidenziale, poi ci hanno fatto scendere, salire sull'elicottero militare di Chavez, scendere, salire su un pick-up, tutto ciò correndo per la sicurezza del Presidente. E' stata un'avventura e quel giorno era il compleanno di Chavez. Un film per raccontare un paese, guardando fra le righe ed evitando giudizi netti. Un documentario utile per chiedersi se il socialismo sia ancora possibile nei nostri tempi posti ideologici.